Serata Gentleman e 7 per forma di eccellente livello con un diffuso equilibrio tra i valori in campo ed il Big Team diviso tra la velocità di Tarantella Femme, la classe di veleno stecca e Ultra Sgriff e la forma di Van Helsing Font. In breve la cronaca con Tarantella Femme proiettata in avanti da Elena Bruniera sotto il minaccioso pungolo di Vitavine Sprint e Ultra Sgriff che si sistemano alle sue spalle mentre avanza a largo Van Helsing Font che costringe la leader a tenere alto il ritmo trascinandosi veleno stecca con Zola Bassa e Demon Bar nelle ritrovie. La situazione non cambia fino ai 400 finali con il progressivo cedimento di Van Helsing Font ed il tentativo di stacco della battistrada che a metà retta però appesantisce la propria azione viene rimontata palma a palmo da Ultra Sgriff che passa in open stretch vincendo in 1-13-2 nelle mani di Thomas Manfredini mentre Viperina Spin avvicina minacciosamente Tarantella senza però riuscire a batterla per la piazza d'onore. Questo il clou della serata e ora martedì si comincia con il superfrustino